dottoressa erica poli grazie mille di aver accettato il mio invito di essere qui a dialogare con me grazie grazie a lei è sempre un piacere poter dialogare perché già la parola dialoghi è una parola di apertura quindi è sempre un piacere di questo tempo ce n'è anche bisogno di parlarsi e di confrontarci allora io appunto con lei vorrei trattare diciamo un po quattro temi 4 macro temi io li ho un po un po sintetizzati così partendo da un tema che però appunto secondo me è un tema diciamo generale complessivo che è il cosiddetto tema della crisi antropologica noi stiamo stiamo attraversando anche in quest'ultima fase con le varie problematiche che ci sono state legate alla malattia alla perdita magari di geni di parenti addirittura comunque insomma in generale c'è un problema di anche di confronto con con i vari temi quelli diciamo più più alti come la morte come la vita come la come appunto il confronto anche tra le persone come il dialogo come le identità tutto è diciamo in travaglio e tutto diventa come dire appunto un motivo di crisi e quindi anche di cambiamento di scelta ognuno di questi temi io diciamo vorrei accompagnarlo con una piccola citazione perché mi sembra diciamo più utile anche per il pubblico forse per farsi diciamo un'idea anche di questi concetti così complicati o comunque insomma non spesso sentiti anche in tv oppure nei luoghi diciamo più popolari però appunto parlando della crisi antropologica mi è venuto in mente un teologo ortodosso Olivier Clément che parla appunto in uno dei suoi testi della società di oggi di questo appunto di questo travaglio e dice lui così la società occidentale è complessa quindi già parte con questa definizione la società occidentale è complessa poi dice dal punto di vista religioso che ovviamente è il suo è sia cristiana che non cristiana e conosce sia l'indifferenza che l'ateismo e anche però la polverizzazione settaria lo chiama così è una società largamente laicizzata secolarizzata nel bene cioè nella ricerca nel dialogo ma anche nel male cioè per l'ideologia nascosta o esplicita del denaro poi chiude ancora con questa riflessione l'europa occidentale è spinta e lo sarà sempre di più alla scelta tra il niente e la santità allora io vorrei appunto aprire le danze con questa con queste considerazioni molto alte però appunto cercando anche di confrontarci con questo tema appunto la crisi antropologica dal suo punto di vista di psicologa anche come la come lo affronterebbe quanto tempo abbiamo naturalmente so più o meno quanto tempo abbiamo ma il tema sarebbe a parte è un tema bellissimo per cui la ringrazio di di averlo portato perché non è scontato si tende oggi e spesso mi capita anche quando mi intervistano in convegni in conferenze a parlare di contenuti molto ristretti quindi la salute mentale l'incremento dei suicidi tra i giovani l'incremento della violenza ma questo sguardo invece interconnesso che pure viene predicato ai quattro venti come necessario fondamentale sempre più in questo tempo in realtà non è praticato per cui intanto grazie di invece aprire così ho scritto qualche parola di questa citazione così immaginando di tessere una collana di perle perché mi sembravano delle perle proprio quelle che che sentivo leggere poco fa possiamo forse toccare almeno sfiorare qualcuno di questi aspetti ma prima di andare appunto a vedere le perle di questo filo ipotetico giusto una parola sull'antropologia nel senso che l'antropologia è in fondo la grande dimenticata della cultura attuale tra l'altro c'è una grande differenza tra cultura e erudizione si può fare erudizione e quindi parafrasando quello che diceva prima tirarsela con dei livelli appunto sempre più alti di intellettualismo oppure si può fare cultura allora cultura viene dall'idea del coltivare cultura è tanto la cultura che tu apprendi quanto la cultura di qualcosa che tu fai crescere quindi la cultura a che fare con il poter coltivare un germoglio far crescere far diventare grande e lo diceva McLuhan la cultura è qualsiasi qualsiasi rapporto qualsiasi relazione che noi intratteniamo con il mondo quella è cultura quindi di nuovo c'è l'idea di qualcosa di ampio che invece noi tendiamo a dimenticare si pensa alla cultura come dire io sono colto in letteratura russa non è questo la cultura è una dinamica di relazione e l'antropologia nella sua essenza più pura è esattamente la stessa cosa antropologia non è antropocentrismo ma esattamente il contrario è il logos quindi è il dialogo è il pensiero la riflessione sull'uomo che come dire è effettivamente la specie di cui noi siamo esponenti su questo pianeta ma chiaramente è la riflessione su che cosa ci fa l'uomo qui su che cosa è chiamato evidentemente a fare a vivere chi è le grandi domande sono in parte anche quelle della filosofia da dove vengo dove vado chi sono ma declinate in una forma che si cala nella vita nella nell'essenza di ciò che è vita cioè civiltà quindi è il grande interrogativo sulla relazione tra la cultura e la natura tra la civiltà e l'origine questa dovrebbe essere l'antropologia questo fu l'intento dei primi antropologi quelli che crearono l'antropologia cosa facevano partivano viaggiavano andavano esplorare altre civiltà mondi diversi mondi lontani i popoli cosiddetti primitivi che avevano tutt'altra visione tutt'altra visione della vita tutt'altro modo di rapportarsi alla vita dove per vita intendiamo pianeta intendiamo piante intendiamo minerali intendiamo animali intendiamo altri esseri intendiamo addirittura sacralità quindi l'antropologia in fondo è semplicemente una terra di confine un crocevia dove si incontrano le culture e ci si fa delle domande con l'intento della scoperta dell'esplorazione quindi noi siamo in un tempo che ha dimenticato l'antropologia anche a livello accademico e non c'è antropologia in medicina non c'è antropologia in psicologia io che insegno in vari corsi universitari ogni volta o anche con i miei tesisti mi ritrovo a dire ma la prospettiva antropologica dov'è allora riprendendo quella citazione lì ci sono già dei punti intanto l'idea che ci sia un occidente e un oriente e che siano diversi ed è vero lo è forse anche per ragioni come dire persino geografiche geologiche l'occidente è la terra del sole che tramonta e l'oriente è la terra dell'aurora del sole che sorge dunque la relazione con il tempo dell'occidente e dell'oriente è completamente differente anche se l'oriente si sta occidentalizzando in alcuni stati ma mi riferisco ovviamente all'oriente in senso stretto e all'occidente in senso stretto allora l'occidente è mondo di cultura più che di natura e l'oriente ha grandi culture ma anche molte nature più delle nostre noi siamo molto più popolati abbiamo città molto più storiche da questo punto di vista e è stato in fondo l'ago della bilancia fino direi all'attualità è soltanto nell'attualità che la geopolitica ci dice che l'oriente sta prendendo delle posizioni differenti ma in realtà visto che appunto Oliver Clement parla di Europa in realtà l'Europa continua ad essere un punto strategico non solo a livello geografico ma a livello culturale continua ad essere un punto di interesse tant'è che Cina, Russia, Stati Uniti giocano in questo scacchiere per accaparrarsi di fatto il controllo dell'Europa nonostante tutto e questo non lo dico io lo dicono i geopolitici di nuovo la geopolitica non è né economia né politica né geografia è di nuovo una terra di confine però è dalle interconnessioni e dalle relazioni tra le cose che noi capiamo la realtà quindi occidente cosa vuol dire vuol dire terra del sole che tramonta cioè terra nella quale si tende a voler definire definire guardare la fine di una cosa si tende a voler segnare dei confini le grandi terre le grandi steppe dell'oriente i grandi deserti non hanno confine mentre noi siamo divisi e ben delimitati è una terra nella quale la cultura antropologicamente determinata e il concetto di pensiero illuminista positivista ha preso piede proprio perché c'è in qualche modo una correlazione profonda con l'idea della fine del definire del confinare quindi l'occidente cosa cosa diceva questo teologo diceva è complesso sì è complesso perché naturalmente ci sono tante tessere lui lo aveva ben espresso e la complessità è un'arma doppio taglio nel senso che da un lato la complessità è ricchezza ma dall'altro è groviglio è multidimensionalità e il grande problema è osservare e affrontare la complessità invece con l'intento di ridurla a una dimensione sola o a due al massimo e qui è interessante perché le parole che diceva il teologo laicizzata secolarizzata all'ideologia del denaro in fondo le parole laicizzata e secolarizzata rimandano all'assenza del sacro che tu ti professi laico addirittura lui parlava di ateismo di nichilismo ma che tu ti professi anche soltanto laico o che parli di potere secolare tu stai parlando di qualcosa che perlomeno per come siamo abituati noi ha estromesso la sacralità che non è la religione è la sacralità cioè è la relazione con qualcosa di segreto sacro viene da segreto cioè qualcosa che è più nascosto che non si vede che è invisibile che è sottile ma che in realtà fa sì che tu in qualche modo nel segreto che è una dimensione fondamentale per i bambini fondamentale per gli innamorati fondamentale per gli artisti che mantengono qualcosa nel segreto che cosa fai continui a mantenere una fiammella un fuoco un qualcosa di vivo che è protetto il cuore di qualcosa che è protetto così come era protetto il cuore della casa per gli antichi romani dove c'era sempre ardeva sempre il fuoco di estia che veniva portato in realtà all'interno della casa da ermes che era di nuovo colui che camminava tra i mondi il protettore dei bambini dei ladri dei furfanti dei bugiardi e dei medici camminava tra il mondo dell'aldilà e dell'aldiquà e era l'unico tra gli dèi che poteva andare nei due mondi portava il fuoco e estia lo custodiva ecco il sacro è questo è un fuoco che arde da qualche parte nella tua casa che è segreto ma a cui tu fai ritorno ogni qual volta hai bisogno di ritrovare un centro allora purtroppo noi abbiamo visto il progredire di una tendenza che è cominciata realmente con l'illuminismo dall'illuminismo in poi da quella rivoluzione industriale la polverizzazione settaria il cambiamento dell'assetto di una società prima c'erano delle classi prima c'erano delle distinzioni un nobile e un plebeo non si sarebbero mai sognati se non in casi rarissimi di interagire tra loro quando arriva la middle class cioè la borghesia chiaramente le cose cambiano e apparentemente cambiano anche in meglio e forse sarebbero cambiate anche in meglio se il concetto di ricchezza, mercato, produzione e tecnica non avesse progredito senza il sacro allora la crisi antropologica è la crisi della relazione delle persone con tutto il resto è l'avere dimenticato che la vita è fatta molto più dalle relazioni che dai contenuti noi ci occupiamo dei prodotti ma non ci occupiamo delle relazioni tra i prodotti e in realtà diventiamo prodotti noi stessi perché dobbiamo essere produttivi perché siamo un prodotto che l'azienda propone perché siamo un prodotto su cui determinati ambiti di mercato devono agire e così via quindi noi abbiamo a oggi un predominio di una tecnica senza una connessione col significato delle cose una logica di produttività e quindi di utilità o di utilitarismo per cui una persona è importante finché è efficiente e produttiva dopodiché non è più importante quindi pensiamo ai nostri vecchi non sono più i depositari del sapere delle tradizioni, dei riti, dei miti sono semplicemente persone da piazzare in una RSA se va bene o a cui trovare una badante un peso un peso siamo in una società nella quale le grandi utopie le utopie massimaliste cosiddette quindi comunismo, destra, fascismo, nazismo e quant'altro femminismo cioè li possiamo mettere tutte le grandi utopie sono cadute ma hanno lasciato il posto non a nuove utopie che peraltro forse non sono neanche l'ideale perché le utopie massimaliste hanno prodotto dei disastri le grandi utopie hanno prodotto appunto il nazismo, i campi di concentramento, la Siberia eccetera eccetera in passato le crociate, le stragi degli ugonotti quindi la grande utopia che pretende di avere la verità cioè sapere che cosa è giusto che accada e metterlo in pratica in realtà porta dei disastri però non abbiamo sostituito nient'altro quindi noi abbiamo una società senza sacro senza utopie cioè senza sogno senza dimensione ideale tant'è che le persone e ancora più i giovani e io li vedo perché chiaramente li curo quindi li vedo in studio con me non hanno un futuro non sanno che cosa vogliono e lo sanno sempre meno e questo però produce delle ricadute molto pesanti perché la carenza di senso produce depressione la carenza di utopia, di sogno, di idealità di rapporto col sacro produce anche astrofazione al male e indifferenza e rassegnazione cioè l'idea che le cose non si possono cambiare che il male fa parte della vita e tutto sommato è normale e quindi noi andiamo incontro a quel famoso nichilismo di cui parlava il teologo però è vero che siamo a un bivio è vero che la storia è fatta di cicli e di ricicli quindi potrebbe anche essere che questa sia l'ennesima pandemia, epidemia come ce ne sono state altre e tutto ritornerà come prima ma la sensazione è che invece i cicli è vero che procedono ma possono anche essere delle spirali ascendenti o discendenti ovviamente di questo hanno parlato in tantissimi Taylor de Chardin tanto per citare una figura che penso possa essere insomma anche nota in un contesto come quello in cui ci troviamo adesso invece hanno, ma anche tanti altri hanno in qualche modo individuato il fatto che la società in questi cicli e ricicli però fa un'evoluzione anche lineare e quindi diventa una spirale siamo passati da delle società antiche nelle quali c'era fortemente l'aspetto mitico quindi tutto era mediato dal sacro e tutto era letto in termini religiosi sacri diciamo così, sacrali mano a mano siamo passati a delle società dell'ethos e del nus pensiamo alla Grecia di Pericle dove comincia ad esserci la filosofia e la filosofia cosa fa? prende dal mito e fa dei ragionamenti ma ancora ci troviamo in un ambito in cui la relazione col sacro è mantenuta sebbene il processo di Socrate e la sua morte ci racconti che alla polis il filosofo non andava tanto bene perché parlava di anima e questo già non piaceva più al potere costituito le cose vanno avanti con alterne vicende arriviamo illuminismo e società moderna la tecne cioè una società in cui non c'è più nemmeno la filosofia al potere c'è la tecnica e adesso che stiamo sul limitare della grande cosiddetta quarta rivoluzione industriale che è una rivoluzione di intelligenze artificiali e di digitale ci troviamo a un bivio che è quello della possibilità di modificare quello che è addirittura il nostro assetto genomico allora la crisi antropologica non è più soltanto la crisi del sacro la mancanza di quello che in oriente o nei popoli primitivi è il guardare all'aurora cioè il senza tempo che non finisce che comincia e non sai quando finisce quindi rimanere in una dimensione fuori dal tempo non è più solo questo non è più una questione solo culturale ma diventa una questione che va a questo punto ad incidere nell'identità dell'antropost cioè dell'uomo ed è per quello che a mio modo di vedere qui siamo veramente a quel bivio che aveva immaginato Teilhard de Chardin e che dice il teologo cioè o andiamo verso il niente cioè a negare il fattore umano in sé per sé o dobbiamo recuperare tutto quello che da direi 300 anni circa a questa parte noi abbiamo dimenticato perlomeno come occidente ma siccome l'oriente produttivo si sta occidentalizzando forse possiamo dire in senso globale ecco questo così è molto complesso il ragionamento però perfetto no ma io credo che abbiamo bene iniziato con questa spiegazione che ti ringrazio molto di aver fatto perché comunque ci dà un po' anche un orientamento iniziale perché come hai detto giustamente ci sono tantissime aspetti all'interno del termine antropologia perché effettivamente riguarda tutto riguarda tutto l'essere umano e tutti i suoi lati più intimi ma anche quelli più esterni quindi tutto il suo fare il suo agire nel mondo e infatti a questo proposito passerei appunto al tema al secondo macro tema che è un po' accennato prima lei dicendo appunto dell'interiorità cioè del fatto che comunque questa crisi riguarda proprio anche le fondamenta dell'essere umano e quindi in qualche modo a livello psicologico la sua coscienza allora io qui mi sono preso questa citazione di Carl Gustav Jung che ovviamente per fare diciamo per rispondere un po' è di casa invece dalle sue parti e quindi io diciamo mi sono preso questa citazione molto forte perché appunto lui è sempre stato secondo me un analista diciamo veramente formidabile non solo dell'aspetto diciamo appunto interiore ma anche proprio dell'aspetto cosmico diciamo antropologico antropocosmico per unire le due cose e quindi lui diceva così la coscienza è una recentissima acquisizione della natura già qui anche lui come Olivier Clermont come tutti quelli che pensano diciamo in maniera un po' forte dicono subito tutto nelle prime due righe diciamo così e quindi lo ripeto la coscienza è una recentissima acquisizione della natura è tuttora nella sua fase sperimentale messo tra virgolette essa è fragile sottoposta alle minacce e ai rischi specifici è facilmente danneggiabile come hanno osservato gli antropologi e qui viene appunto il link una delle più comuni forme di alienazione mentale che si manifesta fra i popoli primitivi è quella che essi chiamano la perdita dell'anima ciò significa come indica il nome una notevole spaccatura o più tecnicamente una dissociazione della coscienza allora qui entriamo un po' più un po' più nel terreno diciamo anche più invasivo perché effettivamente se c'è una scissione una dissociazione delle coscienze che già Jung all'inizio del novecento intravedeva ma che oggi come anche accennava prima lei il fatto della crisi a livello appunto della digitalizzazione di questa intelligenza artificiale di questi meccanismi così iperinvasivi che poi si portano dietro anche un sistema giuridico e lo vediamo bene in queste ultime norme che si sono fatte soprattutto in Italia così invasive allora appunto chiedo di tracciare adesso invece una linea che vada un po' più nell'interiorità quindi a parlare del sé il cosiddetto sé della persona umana insomma allora questo altro tema come dire poderoso riparto da una citazione di Jung peraltro diciamo che io e Jung abbiamo c'è una lunga frequentazione Jung è stato insomma figura come tutti i grandi con le sue contraddizioni piena di luce e ombre c'è chi lo ama c'è chi lo odia c'è chi non lo supporta ma insomma innegabilmente è irrinunciabile il suo pensiero almeno dal mio punto di vista con tutte voglio dire le contraddizioni anche naturali insomma dell'essere umano una citazione sua che va un po' forse a mettere il dito in una piaga molto diffusa dice pensare è molto difficile per questo la maggior parte della gente giudica purtroppo noi assistiamo a un dilagare del giudizio che è figlio di un pensiero non pensiero cioè di ciò che è esattamente opposto al pensiero e cioè l'omologazione del pensiero quindi l'adesione a un pensiero di gregge se l'immunità di gregge è cosa buona giusta e desiderabile il pensiero di gregge dipende forse è desiderabile per qualcuno ma diciamo che per chi si occupa dell'anima o della psiche profonda o della coscienza che sono termini che per certi versi potrebbero essere molto vicini non è cosa buona e giusta tant'è che l'altra frase che io ho nel mio studio accanto a me scritta insieme a quella che ho citato prima così ogni tanto le guardo e insomma me le ricordo è datemi un uomo normale e io lo guarirò che poi insomma la pretesa di guarirlo diceva Ippocrate lenire sempre curare altrettanto quando possibile guarire con l'aiuto di Dio o meglio lui diceva del Dio perché ovviamente per loro era un pante un po' non è so quindi comunque posto che con l'aiuto del Dio si possa guarire chi vorrei guarire è l'uomo normale cioè vorrei guarire quell'individuo che ha rinunciato e quindi alienazione ha rinunciato alla sua individualità che non è l'individualità che ci viene promossa e proposta cioè l'egoismo e il giudizio quindi penso per me mors tua vita mea quello che è utile per me e l'opportunità l'accolgo questo non è individuarsi questo è sopravvivere cercando di sopravvivere come meglio si può in una logica di mera sopravvivenza che è purtroppo quella che è diventata ubiqua c'era già prima perché è figlia di quel mercatismo di quel liberismo di quel consumismo post capitalista che noi vediamo oggi appunto nella post modernità in cui in teoria siamo forse siamo la post post modernità vabbè questi sono i giochi dei sociologi comunque non importa non è quella cosa lì è tutt'altro che cosa è l'individuazione allora l'individuo etimologicamente è indiviso cioè vuol dire diventare integro allora la parola integrità è una parola di quelle molto scomode che però fa sì che tu ti senta individuo e non è che sentirti individuo fa solo di te una persona eticamente corretta che magari sarebbe desiderabile per alcuni ma viste le derive etiche dell'odierno magari non interessa niente a nessuno che mi interessa tanto la mia vita credo che inizi con la nascita e credo che finisca con la morte dunque sarà meglio godersela e stop quindi noi siamo in una società che ha completamente estromesso i concetti del sacro ma i concetti del sacro sono collegati all'anima e l'anima è per definizione immortale non nasce non muore quindi è senza tempo se tu togli questo ti limiti a vivere nel tempo se vivi nel tempo il tuo unico problema è la sopravvivenza sopravvivere il meglio possibile il più a lungo tant'è che noi siamo una società che rifiuta la morte cerca di negarla cerca di allungare la vita il più possibile cosa che non è mai interessato a nessuno dei grandi vivere tanto poco l'importante è vivere da grande non vivere tanto poco sono andati a morire anche a vent'anni per un ideale che gli interessava di vivere se non potevano vivere come loro sentivano invece adesso bisogna vivere anche con cinque pezzi cambiati due che mancano dieci lifting sulla sedia a rotelle però è ancora vivo non si sa per quale ragione visto che non sembra che poi sia così importante a un certo punto tanto devi andartene però questa società fa questo e ovviamente deve mantenere anche un'immagine di questo tipo quindi via la chirurgia plastica estetica e quant'altro quindi siamo in questo tipo di società per cui uno mi potrebbe anche dire che mi interessa di essere integro peccato che essendo psichiatra e occupandomi di questo posso testimoniare ma lo aveva capito già Jung e tanti altri che quando tu smetti di essere individuo tu in realtà perdi dei gradi di libertà perdi dei gradi di felicità interiore che non è la felicità data dalla nuova macchina che mi è arrivata ma è il senso della tua vita cioè tu sai in qualche modo perché sei qui che cosa vuoi fare questo breve viaggio questa parentesi su questo pianeta acquisisce un significato perché tu puoi sentire qualcosa dentro di te che appunto è un messaggio dell'anima che per esempio Hillman chiama il daimon riprendendo la tradizione che c'è c'è una scintilla c'è un sogno dentro di te c'è un'identità e tu in che cosa la ritrovi fin da bambino la ritrovi nelle cose che ti piacciono che ti piaceva fare che ti venivano facili che ti venivano bene cioè i talenti allora le persone che stanno bene e non importa se vivono 30 anni o 60 ma vivono bene e vivono in pienezza sono quelle che esprimono realizzano dei talenti ma i talenti tu li realizzi solo quando incontri il daimon il daimon lo incontri se hai la porta aperta all'anima avrebbe detto la Dickinson se lasci la porta aperta o almeno socchiusa ma questo lo puoi fare solo se la tua visione è quella non esclusivamente di sopravvivenza ma di esistenza allora per chiudere il ragionamento in questo tempo noi ci troviamo di fronte a una omologazione che dura da tanto tempo a una spersonalizzazione di tutto quanto contemporaneamente alla spettacolarizzazione dei vissuti quindi facebook i social quindi continui a buttare all'esterno immagini di te ma ogni volta perché nei popoli primitivi cosiddetti c'era la paura della fotografia e in alcuni paesi ancora dell'Oriente o del Medio Oriente c'è ancora questa cosa o anche nel Sud America perché in realtà c'era l'idea che un'immagine tua ti avrebbe portato via l'anima noi ne ridiamo di questo ma se guardiamo dal punto di vista simbolico che cosa vuol dire questo perché le grandi religioni per esempio pensiamo all'ebraismo non raffigurano Dio perché quando tu cogli un'immagine di qualcosa tu lo hai immediatamente imbrigliato hai tolto un potenziale allora se prendi una fotografia di ricordo è un conto ma se tu continui a mettere sui social immagini di te tu dai impasto agli altri qualcosa che sei tu e tra l'altro lo appiattisci diventi bidimensionale allora il punto è che pensare è difficile che pensare è faticoso quindi le persone si acquietano con che cosa con il passaggio verde per tornare al cinema o in discoteca o al ristorante o in palestra e poi progettare la vacanza per poter viaggiare di nuovo e questo pare che sia uguale alla felicità non è diverso se lo guardiamo in questa ottica da quello che si può dare a un bovino in un allevamento intensivo tant'è che i condomini sono più o meno diciamo con le metrature se facciamo le proporzioni quelle che avrebbe un bovino in un allevamento intensivo penso che viva mediamente bene fino al momento in cui viene macellato quando viene macellato non so se poi magari le cose sono così piacevoli quindi mi fermo mi ha fatto venire in mente quell'immagine del film di Matrix famoso dove appunto erano tutti allevati in realtà eravamo tutti allevati in un'ottica diciamo così appunto anche simbolica però effettivamente questa immagine appunto degli esseri umani coltivati un po' da un sistema da un sistema poi lì chiaramente l'abbiamo anche un po' detto prima le cose sono interconnesse giusto anche lei ha fatto città prima ha fatto riferimento al tema geopolitico al tema politico appunto quindi insomma c'è tutto è tutto connesso perché poi se appunto la mercantilizzazione dell'essere umano alla fine vuol dire anche questo poi incide anche su un livello appunto interiore della ricerca dell'individuazione come diceva appunto Jung che non è appunto individualismo ma anzi ricerca proprio del tuo particolare della tua essenza chi sei tu la rarità eh sì c'è una bellissima frase di Martha Graham una danzatrice io ho dei trascorsi di danza per cui la danza è sempre un luogo che mi piace frequentare e lei diceva una cosa da danzatrice molto semplice ma in realtà molto potente cioè tu hai un'energia viva dentro di te hai una forza vitale non spetta a te decidere se è buona o cattiva giusto o sbagliata però sappi che se tu non la esprimi il mondo non l'avrà e questa forza si esprime in te in maniera unica irripetibile se tu rinunci a esprimere questa unicità il mondo andrà avanti lo stesso ma non avrà questa nota per cui a te come unico compito è dato quello di essere un canale per questa energia il resto non ti deve interessare se noi confrontiamo questo invito con quello che vediamo oggi vediamo bene la perdita dell'anima di cui parlava Jung riferito ai popoli primitivi infatti adesso il tema il terzo punto di questa mappa così un po' immaginaria che avevo pensato di fare proprio riguarda un tema che è un altro dei temi secondo me fondamentali oggi che è il tema dell'empatia si è detto che oltre diciamo appunto alla crisi antropologica a livello sociologico c'è appunto un passaggio da una società empatica o comunque si dovrebbe cercare proprio attraverso anche la rete di cui diciamo internet o altri mezzi sono un po' l'espressione a livello tecnologico di una significanza profonda però nell'essere umano cioè quella di volere appunto relazionarsi e quindi però la relazione è possibile se c'è questo concetto diciamo così dell'empatia cioè di un sentire comune e qui la citazione nel caso specifico è di Daniel Goleman che è quest'altro diciamo famoso psicologo che ha studiato molto l'intelligenza emotiva e quindi anche il concetto proprio di empatia e lui in un suo passaggio dice così citando inizialmente John Donne un altro poeta dice è così non mandare mai a chiedere per chi suona la campana famosa citazione essa suona per te ecco uno dei versi più famosi della letteratura inglese il sentimento di John Donne parla al nostro cuore del legame fra empatia e attenzione partecipe il dolore altrui è il dolore nostro provare un sentimento insieme a un altro essere umano significa essere emozionalmente partecipi in questo senso l'opposto di empatia è antipatia spesso l'atteggiamento empatico entra in gioco quando si formulano giudizi morali in quanto i problemi etici comportano la presenza di vittime potenziali quindi anche qui bisogna prendere un respiro profondo e cercare insieme di entrare in questo tema della relazione sociale tra le persone e appunto di questo concetto dell'empatia a livello psicologico le chiederei di formulare un po' una spiegazione come si può coltivare questo atteggiamento e se questo atteggiamento come dice anche Daniel Goleman è un atteggiamento fondamentale perché l'alternativa è l'antipatia cioè non sentire più quello che è l'essere umano nella sua appunto essenza ma io credo che qua per capire molto molto semplicemente anche questi concetti che potrebbero essere invece più complessi basta guardare gli ultimi due anni della nostra vita parlo almeno per quanto riguarda l'Italia nel senso che non che nel resto del mondo non sia successo nulla ma sicuramente nel nostro stato a parte che lo conosco meglio però vi ha ragioni però è tutto molto amplificato se si legge un po' di stampa estera lo si vede bene è come se questo fosse un acquario nel quale tu puoi guardare più da vicino quello che nel grande mare magari ti potrebbe sfuggire quindi mi riferisco soprattutto ai due anni dell'Italia ultimi dove abbiamo visto il trauma collettivo pandemico ovviamente declinato sulla paura sulla angoscia la paura del contagio prima di tutto su tutti i temi ovviamente connessi al lutto quindi alla perdita le famose bare le fotografie delle bare eccetera il tema del confinamento e quindi perdita delle relazioni restrizioni del contatto e l'altro grande tema incertezza contraddittorietà dei messaggi quindi noi come dire abbiamo declinato tre componenti fondamentali del trauma a livello collettivo l'angoscia la perdita incertezza e la perdita intesa anche come perda di contatto ovviamente non solo lutto ma è sempre un lutto di fatto e che cosa abbiamo visto abbiamo visto che dapprima avevamo chi si metteva sul balcone e cantava le canzoni al pomeriggio e c'erano gli striscioni con scritto ce la faremo eccetera eccetera quindi abbiamo avuto il primo rebound di resilienza cosiddetta questa parola che insomma piace agli psicologi attualmente a me non piace in realtà perché tra l'altro la resilienza da l'idea che il materiale viene dalla dalla meccanica e il materiale ritorna cioè riprende la forma che aveva prima di essere stato sottoposto a una trazione quindi io non vorrei ritornare come prima vorrei evolvere possibilmente apprendere quindi già non mi piace questo termine comunque teniamolo tanto per capire quindi abbiamo avuto questo afflato poi però quando lo stress ha iniziato a diventare cronico quando il trauma si è cronicizzato noi abbiamo visto il regredire progressivo della società e dei singoli che la società ovviamente la formano a dei livelli di organizzazione emotivo comportamentale molto più rudimentali che sono quelli che effettivamente le neuroscienze ci spiegano anche rispetto a quali sono i circuiti dell'empatia così lo possiamo spiegare anche in termini scientifici visto che appunto la nuova religione diciamo è la scienza e quindi noi vogliamo essere religiosi e quindi lo spieghiamo in termini scientifici e quindi noi abbiamo un assetto che è quello che diciamo dovrebbe definire l'homo sapiens è proprio tipico dell'homo sapiens che è l'avere una corteccia molto ampia e all'interno di questa corteccia c'è alcune aree che sono specifiche per l'empatia per la riflessione per la connessione il senso di appartenenza il senso di altruismo la condivisione che sono soprattutto quelle dell'area prefrontale quindi questa zona qua che poi entra anche all'interno e quest'area è molto sviluppata nell'essere umano e manda delle afferenze cioè dei braccini al sistema limbico che invece è il cervello che noi condividiamo anche con i mammiferi il nostro cagnolino il nostro gattino che è il sistema invece il cervello più antico deputato agli istinti alle emozioni alle reazioni neurovegetative al controllo ormonale è una specie di ponte tra le tue emozioni da un lato e dall'altra parte invece il tuo corpo la regolazione corporea e poi ancora più sotto abbiamo il cervello rettiliano che è appunto mi dice il termine quello dei rettili quindi deputato ha istinti ma molto molto primordiali sopravvivenza quindi procreazione controllo del territorio alimentazione fondamentalmente e gestione del pericolo delle minacce sostanzialmente e cosa è successo? che quando noi stiamo bene quando noi siamo in un campo sicuro cioè siamo stabili e ci sentiamo bene noi attiviamo tutti tre questi circuiti assieme quindi lavorano in qualche modo in network e noi siamo in grado di tenere a bada i nostri istinti quindi uno che ci attraversa la strada di colpo non scendiamo e lo uccidiamo come farebbe il cervello rettile imprechiamo un pochino come farebbe il limbico ma poi arriva la corteccia e come dire diceva ma pazienza meno male che non si è fatto niente e tiriamo dritto per la nostra strada tanto per fare un esempio banale quando noi siamo in un campo che non è sicuro quindi il campo è pieno di minaccia è pieno di pericolo è pieno di lutto è pieno di incertezza o noi abbiamo la capacità di regolarci e quindi di regolare lo stress o abbiamo dei supporti degli strumenti che ci vengono dati per far questo o noi regrediamo prima un sistema limbico e quindi avevamo l'elemento passionario cantiamo dalle finestre perché ci vogliamo bene e poi è un sistema rettiliano e siamo nell'ultimo anno la guerra tra chi la pensa in modo diverso tra chi dice una certa cosa piuttosto che chi dice un'altra la separazione dove non c'è più empatia dove addirittura la gente non frega più niente passami il termine poco poetico non frega più niente neanche della sofferenza addirittura leggi su facebook gli sta bene quello che la pensa in quel modo va bene che vada in terapia intensiva e che muoia cioè siamo a questo livello e quindi questo perché perché in realtà fisiologicamente il nostro sistema nervoso ha una organizzazione gerarchica e i sistemi dell'empatia sono dei sistemi come diceva già Jung la coscienza è un'acquisizione recente i sistemi dell'empatia sono il frutto di un'evoluzione se vogliamo vederla in questo modo e cosa si sarebbe dovuto fare allora ci sarebbe dovuto essere un'attenzione per questo cioè è da tanto tempo che noi sappiamo come funziona l'empatia non è stata curata io e tanti altri abbiamo predicato come delle cassandre questa cosa ci siamo organizzati come abbiamo potuto cioè ciascuno di noi ha fatto volontariamente quello che poteva ma dal punto di vista istituzionale non so se è stata una svista se è stata una volontà non lo so in ogni caso guardo i fatti e i fatti mi dicono che in realtà la salute mentale cioè il preservare un campo sufficientemente sicuro e una regolazione adeguata del trauma e delle risposte al trauma non è stata fatta a livello globale a livello collettivo perlomeno in questo paese col risultato che noi abbiamo una popolazione che non è fatta soltanto dal popolo ma è fatta anche dai medici che si occupano di quel popolo gli psicologi i governanti i politici i giornalisti che sono tutti tutti regrediti o quasi tutti regrediti a un livello di funzionamento arcaico nel quale accendono il conflitto piuttosto che smorzarlo e in realtà sono animati i loro stessi perché li sento poi ci parlo quindi mi intervistano poi ci parlo per cui capisco sono animati i loro stessi da quelle stesse strutture che animano i loro ascoltatori quindi la paura l'incertezza la perdita il distanziamento hanno agito dentro di loro a livello psichico se ci aggiungiamo che poi a livello di sistema nervoso noi abbiamo un effettore di tutto questo che è il nervo vago e il nervo vago ha una branca dorsale che è collegata al sistema rettiliano e che si attiva nelle forme appunto rudimentali di sopravvivenza che sono quelle che stiamo vedendo adesso è una branca invece ventrale del nervo vago che è quella che si collega alla corteccia prefrontale al cervello del cuore e gestisce l'empatia la calma il coinvolgimento sociale però queste strutture si riverberano a livello fisico e a livello del sistema immunitario e insieme a queste dialoga il sistema simpatico cioè quello dell'adrenalina che è quello che ti attiva in una risposta di attacco fuga cioè nella risposta di azione e questo regola tutta l'area sul renale e quindi il cortisolo più noi come popolazione stiamo in un assetto arcaico del sistema nervoso più noi avremo dei danni a livello dell'omeostasi ormonale del cortisolo e del sistema immunitario cioè vuol dire una popolazione più aggressiva più ostile più antipatica ma contestualmente con un sistema immunitario danneggiato dei livelli di cortisolo aumentati uguale infiammazione cronica uguale patologie degenerative del sistema nervoso del sistema immunitario cioè autoimmuni e in generale oncologiche oltre al danno sulla salute mentale quindi apparentemente entrando in un assetto rettiliano io mi preoccupo solo della mia sopravvivenza e non mi interessa più della collettività e del gruppo a cui appartengo e non mi interessa dell'altro e quindi faccio il mio interesse ma in realtà il risultato è che tra un po' di tempo saranno più malati di quanto non lo erano prima perché in realtà e questo l'ha spiegato bene anche Damasio la coscienza è vero che è un'acquisizione recente come dice Jung in senso psicologico ma la coscienza dal punto di vista biologico è condizio sine qua non per la vita cioè anche i batteri hanno la coscienza collettiva hanno il concetto di cooperazione allora se ti vuoi salvare nella natura evolutivamente anche parlando ti salvi con la cooperazione non con il conflitto non è vera l'idea darwiniana dell'evoluzione come predominio di quello più forte è stata smentita l'evoluzione è una cooperazione dove certo c'è un adattamento tra quelli più forti e quelli meno però in realtà quello che noi stiamo facendo è seminare in realtà malattia e seminare fragilità nelle persone e io non mi stancherò mai di dirlo e ovviamente essendo un medico e lavorando in questo quindi la questione non è che chi se ne frega perché adesso non è il momento di pensare ai bei sentimenti perché adesso c'è un'emergenza è esattamente il contrario i bei sentimenti sono quelli che ti traghettano fuori dall'emergenza e che tengono il tuo sistema neurovegetativo nell'assetto più consono alla salute però pare che queste cose che pure si sanno non facciano breccia dove dovrebbero bene noi abbiamo fatto il nostro in questo caso perché effettivamente la panoramica che ho appena fatto è fondamentale anche perché appunto come diceva lei è scientifico cioè non è un piano come dire esclusivamente come dire spirituale o di psicologia che anche qui bisognerebbe capire se è scientifico o non scientifico anche il piano psicologico ma comunque qui apriremo una vexata a questio che non abbiamo tempo di discutere oggi però è stato secondo me esaustivo il riferimento quest'ultimo punto invece per concludere un po' questo tragitto riguarda invece proprio anche una cosa che appena ha detto lei cioè questa questa paura io penso che appunto se possiamo in qualche modo pensare una uscita da questo clima così appunto soffocante e per certi versi perverso l'unico modo anche qui Jung Docet è guardare in faccia l'ombra guardare in faccia la paura e appunto qui per aiutarci un po' in questo ultimo passaggio mi è venuto in mente una persona che è stata di recente anche attraversata da questo cambiamento della coscienza in altro che è Thich Nhat Hanh Thich Nhat Hanh appunto scomparso proprio 22 01 2022 o per meglio dire si è trasformato in qualcosa d'altro e lui diceva proprio questo sul tema della della paura diceva la nostra più grande paura è che quando moriamo o quando moriremo non ci saremo più anche qui come prima cioè la prima frase dice un po' tutto del del discorso molti di noi credono che tutta l'esistenza sia limitata a un periodo particolare il tempo della vita pensiamo che questo tempo cominci quando nasciamo e che finisce quando moriremo e torneremo a essere niente così siamo pieni di paura dell'annichilazione tuttavia guardando in profondità potremmo comprendere la nostra esistenza in modo del tutto differente allora anche qui un po' l'aveva anche anticipato lei questo tema perché prima aveva parlato proprio di questo della nascita e della morte allora noi siccome appunto se regrediamo come diceva prima a un livello primitivo passiamo questo termine della vita come sopravvivenza allora è chiaro che tutto diciamo ci tocca fino a che diciamo non tocchiamo la carne la vita dice qua se parliamo di tutto sì però se io devo poi morire mettiamo un attimo le mani avanti non facciamo niente concentriamoci solo sulla nuda vita come dicono alcuni filosofi e poi dopo il resto come dire lo passiamo in secondo piano ma Thich Nhat Hanh ci insegna forse con questa piccola citazione ma con la sua esistenza direi che forse c'è un grado un po' più profondo della coscienza dell'anima allora io le chiedo di lasciarci con questo pensiero sulla vita sulla morte e sul destino dell'anima che forse appunto ha piani un po' più elevati che non la sopravvivenza mi colpiva molto mentre lei parlava a parte che ci possiamo dare anche del tu perché ogni tanto ci siamo dati del tu e del tu ma ormai dopo questa chiacchierata ci conosciamo voglio dire intimamente perché questi temi sono quelli che poi ti fanno capire la risonanza che c'è con qualcuno quindi ti do del tu e dammi pure del tu mentre parlavi mi colpiva l'immagine io penso che poi chi vedrà questa intervista vedrà anche la tua immagine perché se tu guardi ci sei tu e hai di fianco questa lampada diciamo che però così iconograficamente forse ci permette di fare un gioco visivo se immaginiamo che la lampada che in fondo ha una forma sferica in qualche modo no possa essere paragonata a una istanza sottile che è tua e che ognuno di noi ha in tante in tante culture compresa quella platonica o neoplatonica plotino eccetera c'è l'idea della sfera così come c'è nelle dimensioni orientali che hai citato no la coscienza come una sfera allora noi potremmo dire tantissime cose a partire da un presupposto che dia già per buono il fatto che in effetti noi si viva come viene rappresentato dalla tua immagine in questo momento cioè avendo un corpo nel quale si incarna appunto quella sfera di luce e poi quella sfera come una palla che passa attraverso un vetro entra in una stanza esce dall'altra parte quella se ne vada a un certo punto no è la casa in cui è passata sia in qualche modo il corpo questa è la come dire la visione di tutte le culture che abbiano una spiritualità poi declinata in tanti modi però visto che faccio il medico visto che faccio la psichiatra visto che mi occupo anche di neuroscienze forse mi viene da pensare che il contributo migliore che io posso dare non è tanto quello di parlare di questo che appannaggio anche dei teologi appannaggio di chi si dedica completamente alla spiritualità ma forse dire qualcosa che in un tempo appunto neanche ateo perché poi l'ateo come diceva Levinas è religioso a livelli estremi io direi proprio nichilista forse più che ateo ecco in questo tempo forse dire qualcosa che dalle neuroscienze dalla fisica forse potrebbe far sorgere il dubbio nella mente alienata di una persona che sia stata ormai appunto allevata nell'illusione della materia fine a se stessa magari faccia sorgere il dubbio che la materia non è solo materia e quindi non voglio portare delle prove dell'esistenza dell'anima ci ho già provato San Tommaso e tanti altri e non è così semplice ma voglio solo instillare il dubbio che forse il piano in cui noi viviamo non sia esattamente quello che noi vediamo e voglio farlo appunto religiosamente in modo scientifico quindi prendiamo fisica quantistica in tre parole cos'è che ci dice ci dice che la realtà non è come appare ce l'avevano già detto Iveda e tanti altri però la fisica ce lo dimostra e questo è dimostrato cioè in fondo quello che noi vediamo non è che non ci sia è che non è come lo vediamo noi crediamo di vedere delle entità solide ma non esistono perché le vediamo e loro non potrebbero dire vabbè ma perché io sento la sedia su cui sono seduto e mi sembra rigida perché noi abbiamo degli organi di senso che decodificano che cosa dei segnali elettromagnetici degli impulsi li decodificano li fanno arrivare come segnali elettromagnetici al cervello e il cervello li decodifica in base a delle forme che può come dire o delle percezioni che può creare tant'è che premio Nobel recente eh Sir Carl Prebram no e anche Sir Roger Penrose i premi Nobel abbastanza recenti Penrose molto recenti un paio di anni fa ma anche recentissimi dell'ultimo anno che cosa dicono che in realtà il cervello è un organo olografico che crea rappresentazioni di forme di percezioni a modo suo quindi torna l'idea platonica delle idee a modo suo a partire da dei dati che sono vibrazioni elettromagnetiche so che è difficile per una mente cogliere questo ma basterebbe guardare quella lampada che hai lì di fianco con un microscopio elettronico per vederla disfarsi in una nube di elettroni che si muovono e questo è il dato tant'è che Bohm diceva chi non ha capito questo non capisce l'ordine implicato delle cose c'è un ordine sotto e Bohr diceva a sua volta se uno legge la fisica quantistica o la meccanica quantistica lui diceva e non ha uno shock vuol dire che non l'ha capita perché ti sta dicendo guarda che tu credi che esista la materia ma guarda che la materia così come la vedi non esiste esistono cose al di sotto che sono vibrazioni poi andiamo a prendere gli astrofisici e gli astrofisici ci dicono che in realtà l'universo non è fatto di massa il 95% dell'universo non è fatto di massa cosa è fatto di antimateria energia oscura materia oscura cioè una roba che non è massa poi andiamo a prendere i neuroscienziati prendiamo Tononi per esempio un nostro che vive negli Stati Uniti però è italiano che in uno degli ultimi libri scrive il sottotitolo è dal cervello all'anima e cosa dice lui? dice andando a studiare tutto cercando di trovare delle basi neuroanatomiche della coscienza nel cervello prima ho cercato delle aree e non le ho trovate poi ho cercato dei network che ci ho detto beh la coscienza sarà figlia della comunicazione tra aree e poi non le ho trovate poi ho cercato le informazioni cioè pacchetti di impulsi elettrici e non l'ho trovata e alla fine da scienziato devo dire che c'è qualcosa che in forma cioè dà la forma a tutto questo ma è prima di questo è una coscienza che io non posso chiamare in nessun modo non la posso non è il frutto non è la somma degli addendi quindi cervello corteccia non è la somma di queste parti è qualcosa che anzi fa sì che queste parti funzionino e io la devo in qualche modo chiamare anima anche se non so che cos'è e in fondo questa tra l'altro non è solo dentro di me è fuori da me per cui tutti i fenomeni di sincronicità di cui parlava Jung Princeton per anni ha studiato i fenomeni di telepatia e ha dovuto dire che effettivamente in qualche modo l'entanglement cioè il toccarsi al di là dello spazio del tempo di qualcuno che connesso esistono e così via le esperienze di premorte insomma ci sono tantissime sfaccettature della scienza che ci portano a dire che in realtà c'è un qualcosa che organizza quello che per noi è la materia ma non è materico e lo dobbiamo dire da scienziati non da teologi allora se le cose stanno così e stanno così perché a questo punto ne abbiamo almeno come dire le evidenze che instillano il dubbio allora almeno la domanda non dico la risposta perché forse la risposta è di una vita intera e poi forse dopo ma almeno la domanda sul senso di essere qui se effettivamente io sono un'entità energetica elettromagnetica di qualsiasi termine vogliamo usare il se l'anima è uguale una coscienza che abita una materia ma almeno una domanda su che posto voglio avere in questa materia e dove voglio andare e da dove vengo e dove andrò io credo che sia irrinunciabile e io credo che sia solo questo il punto che le persone si facciano delle domande le risposte poi sono infinite forse ognuno le trova a modo suo ma una persona che si fa delle domande sarà una persona che vive la vita in una forma religiosa dipendentemente dalla risposta che dà cioè comincia a guardare le relazioni tra le cose capisce che è già una relazione fin dall'inizio allora curerà le relazioni una persona che invece crede che quello che esiste è soltanto ciò che vede è ovvio che non curerà le relazioni non si farà nessuna domanda ed è potenzialmente una persona altamente manipolabile e contemporaneamente estremamente violenta perché la violenza sorge dal fatto che non ci sia alcun senso in ciò che tu fai se non quello della pura necessità materica allora diventi violento la natura è violenta quando il ghepardo azzanna la preda è violento ma se tu guardi la relazione che c'è tra il ghepardo la preda la foresta i piccoli altri predatori quello che rimarrà della carcassa di quello per altri predatori ancora e l'humus che poi andrà e il ghepardo che a sua volta non azzanna più di ciò che mangia mai cioè se tu guardi all'armonia dell'insieme non è più violento questo è un grande insegnamento di Thich Nhat Hanh Thich Nhat Hanh era molto centrato su questo l'armonia dell'insieme se tu guardi il singolo atto è violento se tu guardi l'insieme all'interno di questo anima mundi sta orchestrando una grande un grande spettacolo di vita ma lo puoi fare solo se tu riesci a fare un salto di coscienza al di là del singolo oggetto e forse forse la scienza potrebbe oggi proprio essere riprendiamo il bivio del teologo a un bivio o diventa totalmente asservita a un potere utilitaristico oppure diventa proprio quella disciplina che può riportare le grandi domande sulla vita sì sì questo è il bivio infatti speriamo con questo nostro incontro di aver stimolato proprio questa riflessione e di aver creato un po' le possibilità per porsi domande ulteriori e per aprirsi al mondo con quella curiosità che anche i bambini hanno nell'affrontare la vita e quindi anche la possibilità appunto di vivere pienamente senza dimenticarsi queste cose importanti appunto che il piano materiale della fisica del ragionamento sono fondamentali ma solo se connessi al piano anche dell'anima e quindi anche della della totalità dell'essere in quanto diciamo anche spiriti e quindi anche come come dire non limitati alla sopravvivenza della specie cosiddetta quindi io ti ringrazio molto grazie Erika spero che sia l'inizio di questa nostra collaborazione poi magari in futuro ci risentiremo per affrontare altri temi molto volentieri anche perché anche se sono stata in alcuni passaggi come dire non voglio dire pessimista però insomma sicuramente molto precisa nel definire quello che secondo me è una deriva pericolosa in realtà io continuo per fortuna a incontrare sulla mia strada persone che invece mi pare che l'anima non l'abbiano persa e quindi tra queste anche anche te che stai dialogando con me e mi auguro insomma chi ascolterà se ha l'interesse di ascoltare temi di questo tipo presumibilmente è perché in qualche modo una connessione con quella dimensione ce l'ha e quindi credo che sia molto importante che continuiamo a portare avanti questo anche come dire danzando tra le rovine o nella tempesta o nell'occhio del ciclone sì bene grazie mille ancora e buon lavoro per tutto e anche a te e a questo punto a tutti coloro che poi ci ascolteranno sì grazie a tutti